Menotti Sanfilippo è stato premiato Marco Ramondino per il memoria alla Giannattasio, migliore scelta quest'anno non poteva esserci? E' veramente una scelta che nasce da lontano perché Marco credo che abbia coronato quest'anno una carriera sempre in ascesa. Già l'anno scorso ha fatto un risultato straordinario, il 2016-2017, tant'è vero che la targa che è sotto la Coppa che gli è stata consegnata parla di migliore allenatore avellinese. Non fa riferimento alle stagioni perché dovrebbe essere premiato per più stagioni. Quindi a questo punto per adesso è il migliore allenatore avellinese in assoluto, mi auguro che migliorerà i suoi risultati, mi auguro anche che qualcun altro casomai possa fare meglio ma non credo che sarà tanto semplice battere Ramondino che obiettivamente ad oggi è l'allenatore avellinese che ha raggiunto i risultati migliori. Benotti, il presente che si intreccia col passato è stato un pomeriggio davvero emozionante con Ciro Merillo, con te, con Marco, con tante figure che hanno fatto davvero la storia di questo scandone. Speriamo che la storia continui e continui anche meglio rispetto a quello che è stato la scandone del passato ma anche la scandone del immediato passato, cioè del passato più recente, cioè migliorare addirittura se possibile a quelli che sono stati i risultati, lusinghieri che si sono avuti negli ultimi anni, obiettivamente anche in virtù di una potenza economica che chiaramente non lei si è una risorsa per questa società. Ti faccio una domanda un po' provocatoria, fatta poco fa anche a Marco. Poteva secondo te esserci la possibilità, mai come quest'anno, di avere un allenatore avellinese sulla panchina della scandone avellina? È una domanda che mi imbarazza perché chiaramente io sono non un amico ma diciamo un grande estimatore di Marco Ramondino quindi io credo che praticamente Marco fosse pronto per poter fare questo salto però evidentemente Nicola Alberani che ha fatto quest'anno per la prima volta ha scelto lui lo staff perché non dimentichiamo che quando è arrivato tre anni fa l'allenatore era stato già scelto e quindi diciamo quest'anno si è presa una bella responsabilità è giusto che praticamente il direttore sportivo scelga un proprio uomo un uomo di cui lui ha la massima fiducia e che conosce molto bene erano due gli uomini che lui conosceva molto bene e di cui si fidava dal punto di vista tecnico ed umano uno era Luca Dalmonte e un altro era Vucinic quindi Dalmonte credo sia sotto contratto con Verona poi diciamo che casomai il nuovo è sempre un po' più intrigante quindi diciamo che ha fatto questa scelta sicuramente Marco dal punto di vista tecnico non è secondo a nessuno secondo il mio punto di vista